Una struttura che lì da circa 50 anni e che i cittadini di San Giorgio Ionico conoscono bene perché sorge sul tragetto che conduce al cimitero comunale. Una cappella votiva, insomma il cosiddetto calvario come gli abitanti di San Giorgio Ionico lo identificano abitualmente, è una tappa fissa per chiunque si recchi al cimitero comunale ed anche per chi semplicemente ha fede. La struttura, da anni in condizioni fatiscenti, si è presentata in questa commemorazione dei defunti completamente riqualificata. Ma non solo, sembra che la ristrutturazione sia avvenuta per iniziativa di una coppia vista all'opera proprio nei giorni scorsi, che in maniera assolutamente volontaria, anonima e soprattutto gratuita abbia deciso di restituirla alla comunità in ottime condizioni. Un atto di fede probabilmente che ha suscitato anche sui social l'ammirazione dell'intera comunità san giorgese, tanto che il primo cittadino ha deciso di ringraziare pubblicamente questi benefattori anonimi. Io voglio ringraziare pubblicamente questa coppia di cittadini che in maniera del tutto gratuita e volontaria si è spesa per riqualificarla e come tutti hanno potuto notare vorrei non solo ringraziarli ma portare l'esempio di questi due cittadini a tutta la comunità. La collaborazione da parte di tutti noi porta poi a dei risultati straordinari, quindi tutti insieme possiamo fare uno sforzo come questi due cittadini che ripeto voglio pubblicamente ringraziare, perché collaborando tutti insieme sicuramente riusciamo a migliorare il decoro e anche la vivibilità della nostra bella cittadina.